Ciao, sono il Cuso e questa è la Fisica che non ti aspetti. Ormai dovreste sapere che lo scorso ottobre è uscito il mio primo libro Radioactivity e che potete trovarlo in libreria o cliccando sul link qui sotto in descrizione. Questo libro, come sapete o immaginerete, parla di radioattività, perché esiste, come funziona, quali problemi può porre alla nostra salute e cosa abbiamo imparato a farci. Nel libro tuttavia non ho incluso alcuni aneddoti e storie che pur essendo relative alla radioattività non riguardavano le sue applicazioni, quindi sono rimaste fuori. Ma oggi sono qui per rimediare. In questo video, infatti, voglio raccontarvi di alcune storie, alcune curiose, altre decisamente inquietanti, che hanno riguardato questo aspetto della natura. Se siete con me, partiamo! Iniziamo la nostra carrellata tornando al 1978. Nel libro si parla di persone che si sono beccate dosi di radiazioni considerevoli, ma quella di Anatoly Bukowski è una storia completamente a parte. Bukowski è un fisico delle particelle e già il fatto che stia parlando di lui al presente dovrebbe lasciarvi pensare che la storia in fondo ha avuto un lieto fine. Nel 1978 era un ricercatore all'Istituto per le Alte Energie a Protvino, dove da alcuni anni era attivo un sincrotone conosciuto come U70. U70 è un acceleratore di particelle di protoni nella fattispecie, capace di portarli fino a un'energia di 70 GV. Per darvi un'idea, LHC è in grado di ottenere energie di tre ordini di grandezza maggiori, ma comunque stiamo parlando di tanta energia. Ora immaginerete che non debba essere una buona idea mettere alcuna parte del nostro corpo dentro il fascio di particelle accelerate. L'enorme energia trasferita da questi protoni è enormemente maggiore a quella che una persona può sopportare. Sempre come termine di paragone, il fascio di protoni utilizzato allo Knao di Pavia, di cui parlo nel libro quando affronto la questione dell'adroterapia, ha un'energia di soli 250 MV, quindi oltre 100 volte minore rispetto a U70. Questo almeno sarebbe il caso se non vi chiamate Anatoly Bukowski. Il 13 luglio del 78, mentre cercava di riparare un componente malfunzionante, il sistema di sicurezza del sincrotrone ebbe un problema e Anatoly mise inadvertitamente la testa proprio sulla linea del fascio. Contro qualunque previsione riuscì a sopravvivere, sebbene riportando diversi danni. Nel momento dell'esposizione non provò nemmeno dolore, ma vide solo un lampo di luce abbacinante. La sua faccia si gonfiò, la pelle risultò ostionata, come sarebbe logico aspettarsi, ma questo sintomo durò poco. Ha quasi completamente perso l'udito dall'orecchio sinistro e il lato sinistro del viso è quasi del tutto paralizzato. Per un certo periodo ha anche sofferto di crisi epilettiche, ma tutto sommato è sopravvissuto. Anzi, ha pure completato il suo PECD ed è tornato a lavorare all'istituto di Protvino. Non sappiamo come abbia fatto a sopravvivere. Si stima che la dose assorbita a causa dell'esposizione sia stata intorno ai 2000-3000 Grey, quando una dosi di appena 5 Grey potrebbe già risultare fatale. Forse il fatto che il fascio fosse così precisamente collimato, ossia di piccolissimo diametro, ha contribuito a salvargli la vita dato che ha impedito che un'ampia porzione del suo corpo subisse l'esposizione e forse l'area del cervello interessata non era poi così fondamentale. Sicuramente è stato molto, molto fortunato. Le cose sono andate decisamente meno bene alle persone coinvolte nell'incidente di Goiania in Brasile. Un incidente classificato a livello 5 della Scala Ines, ossia un incidente con conseguenze significative, come vedremo. L'incidente è considerato il più grave che non abbia coinvolto una centrale nucleare o l'impianto della filiera dell'uranio. Per inciso, un incidente che ha fatto più morti di Fukushima. La cronistoria è assurdamente attorcigliata dato che coinvolge decine di personaggi diversi, ma qui ne darò un piccolo assunto. Se volete la ricostruzione completa, almeno quella che si è potuta ricavare dalle indagini svolte, potete leggere il documento prodotto dalla YAEA che vi lascio in descrizione. Tutto parte da un centro di radioterapia a Goiania che nel 1971 ottiene il permesso di importare una sorgente Alcesio 137, prodotta presumibilmente presso i laboratori di Oakridge. E dico presumibilmente perché il numero di serie della sorgente è sconosciuto. Nel 1985 l'Istituto cambia sede e alcune delle sue sorgenti vengono spostate nei nuovi edifici. Tra queste non era presente la sorgente Alcesio, che invece era rimasta nella sede originale, abbandonata sebbene sorvegliata. Già qui le cose non vanno come dovrebbero, ma potranno solo peggiorare. Infatti, due furfanti, attratti dalla possibilità di far su un po' di denaro, si intrufolano nel centro e rubano la testa della macchina per radioterapia. Più tardi estraggono la sorgente, che è rinchiusa in un contenitore metallico che scherma solo parzialmente dalle radiazioni. E infatti nel giro di un paio di giorni i due cominciano a sentirsi male, a vomitare, ma questi sintomi vengono ricondotti a un'intossicazione, un'allergia alimentare. D'altronde, da medico, come ti può venire in mente che quello sia avvelenamento da radiazioni? Soprattutto perché immagino che i due ladri non avranno ammesso il loro crimine. Vedi dottore, abbiamo rubato una macchina per radioterapia e l'abbiamo sventrata, ma forse stiamo male per via di quel cartone di latte scaduto in frigo. Dal 18 settembre però la situazione precipita. La sorgente viene aperta e il radioisotopo estratto a piccoli pezzi. La sorgente, ormai aperta, viene venduta a un RobiVecchi, che notando la luminescenza bluastra, se la porta a casa e la mostra a parenti e vicini. Da questo momento la polvere, che è cloruro di cesio, un sale peraltro molto solubile, fa il giro del quartiere e molte persone e luoghi ne vengono contaminati. Solo il 29 settembre, 19 giorni dopo il furto, si ha la conferma definitiva che la fonte di tutti i malesseri riscontrati da decine di persone è una sorgente radioattiva. Le conseguenze di questo incidente furono molto gravi. 4 persone morirono, tra cui una bambina, e molte altre subirono danni più o meno permanenti, inclusa l'amputazione di arti o dita. Una significativa aria della città fu contaminata come si vede da questa mappa e fu necessario radere al suolo diversi edifici e rimuovere la parte più superficiale del terreno. L'alta solubilità del sale di cesio e la pioggia dei primi giorni avrebbero potuto dilavare la fonte radioattiva e diluirla nell'ambiente rendendola meno pericolosa, ma il bel tempo dei giorni successivi ha fatto seccare il terreno e il cloruro di cesio è rimasto nella polvere risospesa dal vento. Diverse case furono evacuate, inizialmente anche alcune in cui i livelli di contaminazione non erano da ritenersi preoccupanti. Alla fine, tutto considerato, si decise di evacuare le case che avrebbero portato gli occupanti ad accumulare più di 5 millisivert all'anno, una dose equivalente decisamente bassa. Tornando a qualcosa di meno drammatico, ma legato pur sempre a un evento devastante, passiamo a parlare della Trinite, una sostanza vetrosa che è stata trovata in grandi quantità tutto intorno al sito dell'esperimento Trinity, la detonazione della prima bomba nucleare della storia. Questo vetro verdastro e radioattivo ricopriva grandi aree intorno al punto dell'esplosione e la sua identificazione come una sostanza mai osservata prima risale al 1948, ma ipotesi solide sui meccanismi che hanno portato alla sua formazione sono decisamente più recenti, dato che risalgono al 2005. Di base la Trinite è un vetro di silice dal momento che è nato dalla sabbia fusa e rapidamente risolidificata durante l'esplosione, ma ovviamente sono presenti residui di isotopi radioattivi tra cui Americio 241, Stronzio 90 e Cesio 137. Tutti residui compatibili col fatto che la prima bomba, The Gadget, fu una bomba al plutonio come quella sganciata sul Nagasaki. Sono però presenti interessanti altre contaminazioni. Ad esempio è presente un isotopo radioattivo di bario che si ritiene derivi dall'apparato che aveva lo scopo di gestire la forma del fronte dell'esplosione che avrebbe innescato la fissione della bomba. La presenza di componenti della bomba stessa ha portato gli scienziati del Los Alamos National Laboratory a ipotizzare che la sabbia del deserto intorno al sito dell'esplosione sia stata sollevata in aria alla lomba d'urto, fusa dalle enormi temperature all'interno della palla di fuoco dove raccolse elementi provenienti da tutto l'apparato della bomba e infine sia precipitata al suolo come gocce fuse che tornando solide in breve lasso di tempo hanno portato alla formazione del vetro chiamato Trinite. La Trinite non è un minerale con una composizione precisa, come potrete immaginare, anche da un punto di vista degli isotopi radioattivi contenuti. Sono conosciuti due tipi principali di Trinite, distinti attraverso il loro indice di rifrazione che dipende dalla composizione generale e nonostante la maggior parte di questo vetro sia verde, esiste una variante rossa che ha composizione simile ma una struttura interna differente. Al giorno d'oggi, a quasi 80 anni dal test di Trinite, la Trinite non è più molto radioattiva e risulta potenzialmente pericolosa solo se incerita. Ma chi si mangerebbe del vetro per di più radioattivo? Ma ovviamente negli anni successivi al test la quasi totalità del materiale prodotto è stato rimosso e seppellito in un differente sito in New Mexico. Questo però non accadde immediatamente, dato che all'inizio si ritenne che il vetro derivasse solo dall'intenso calore dell'esplosione. Nel 1945 e nel 1946, quindi, la Trinite veniva raccolta per farci gioielli. D'altronde, perché ci si dovrebbe preoccupare di una sostanza trovata sul sito di un'esplosione nucleare? Una piccola ulteriore curiosità. Anche se per molto tempo si è ritenuto che la struttura della Trinite fosse essenzialmente stata generata casualmente, si è riuscito a dimostrare che invece la sua composizione è intrinsecamente legata al tipo di bomba e alla modalità di detonazione, cosa che potrebbe essere utilizzata, anche se si spera di no, per valutare le caratteristiche di una futura detonazione. David Hahn. Chi era costui? Potreste dire uno scout, oppure un ragazzo a cui piaceva molto la chimica e la fisica. Per l'FBI era un ex marinaio, dal momento che dopo gli eventi che vi andrò a raccontare entro in marina, in possesso di un piccolo reattore autofertilizzante. David Hahn era un ragazzo del Michigan con uno spiccato interesse per le scienze che nel 1994 cominciò a fare qualche esperimento che lo portò ad essere, come si dice oggi, attenzionato dalle forze dell'ordine e la sua casa ad essere bonificata dall'Environmental Protection Agency. Aveva infatti cominciato ad accumulare in gran segreto una notevole quantità di sostanze radioattive e a farci esperimenti. Giusto per darvi un'idea delle abilità del ragazzo. David aveva. Recuperato Americio 241 dai rilevatori antifumo, di cui parlo anche nel libro, e creato una sorgente di neutroni bombardando dell'alluminio con le emissioni alfa dell'Americio. Purificato Torio 232 riducendo l'ossido di Torio recuperato dai rivestimenti delle lampade da campo usando il litio ricavato dalle batterie ricaricabili. Recuperato rocambolescamente una fiala di vermice al radio 226 e con quella creato una nuova sorgente di neutroni più potente bombardando del beriglio. Cominciato a costruire un reattore autofertilizzante in cui Torio 232 viene convertito in uranio 233 tramite bombardamento neutronico. E molto altro ancora. Fu per un colpo di sfortuna che il suo piano non poté proseguire dal momento che la polizia scoprì una delle sue riserve nascosta nel bagagliaio di una macchina e credendole una bomba atomica le sequestrò mettendo in allerta. FBI, EPA e NRC. E avevano trovato soltanto gli scarti dei suoi lavori. La parte succosa era a casa ma la madre di David, temendo che le venisse sequestrata la casa, decise bene di buttare tutto nell'immondizia perché è notoriamente così che si smaltiscono i rifiuti nucleari. Ovviamente non si smaltiscono così e se avete letto il libro saprete anche come si fa. Potreste aver sentito dire che se dovesse esserci una guerra nucleare sopravviveranno solo gli scarafaggi. In effetti questi insetti sono un po' più resistenti dell'uomo agli effetti delle radiazioni ma sono ancora dei dilettanti. Ancora nel 1954 sono stati condotti degli studi sugli effetti delle radiazioni sulla fertilità usando come soggetto la vespa Abrobracon juglandis. L'obiettivo era capire meglio come le radiazioni influenzassero la capacità di deporre uova fertili, e per scoprirlo le vespe furono esposte a due diversi tipi di sorgenti. Una esterna, classici raggi X, e una interna del miele contenente fosforo 32. La cosa interessante è l'esposizione a cui alcune di queste vespe sono state sottoposte. Si è arrivati infatti fino a 7950 Röntgen. Il risultato è che la fertilità è risultata inferiore e qualche vespa, ma non tutte, sono anche morte. Ma 7950 Röntgen? Sono tanti? Sono pochi? Giusto per un paragone. Anatoly Stepanovich Dyatlov dice nella serie Cernobyl 3.6 Röntgen. Non bene, ma non torribile. 3.6 Röntgen comincia ad essere preoccupante. Queste vespe, a 2000 volte quell'esposizione, smettono di deporre uova fertili. Ma come fanno a sopravvivere? La relativa semplicità biologica di un insetto rispetto a un mammifero e una diversa frequenza di replicazione cellulare, il momento in cui le cellule sono più suscettibili ai danni al DNA, potrebbero essere tra le cause di questa resistenza. Ah, e a proposito di Dyatlov. Concludiamo con una storia avvolta nel mistero. La storia del passo di Dyatlov. Il passo di Dyatlov si trova qui, nel bel mezzo della Russia, e non avete idea di quanto mi senta come shy a mostrarvi questa cartina, ed è stato scenario di una brutta faccenda che ha coinvolto alcuni escursionisti sovietici nel febbraio del 1959. Il nome del passo deriva da quello del capo della spedizione, Igor Dyatlov, che non ha nulla a che vedere con Anatoly Stepanovich Dyatlov, vice capo della centrale di Cernobila all'epoca dell'incidente. Nella notte tra l'1 e il 2 di febbraio qualcosa costrinse i nove esploratori ad abbandonare le loro tende in modo improvviso e trovare la morte nelle nevi del Colat Shackle. Non fu una fuga tranquilla, tutt'altro. I nove furono trovati, scherzamente vestiti, le loro tende erano state tagliate dall'interno. Sei di loro morirono di ipotermia, e direi che la cosa ha senso, ma tra tutti riportavano danni difficilmente riconducibili al freddo. Ferite, traumi da corpo contundente, amputazioni, no. Decisamente era successo qualcosa di molto grave che ancora oggi non trova una spiegazione soddisfacente, sebbene la versione riconfermata anche da indagini più recenti rimandi a una valanga. Ma non siamo qui per indagare sulle cause di questo incidente. O forse sì. Perché c'è un motivo per cui vi sto parlando di questo incidente in un video riguardante curiosità nucleari. Sui vestiti di alcuni degli esploratori furono trovate tracce di radioattività, cosa che portò alcuni a fantasticare che i nove rimasero inconsapevolmente coinvolti in un test di una qualche arma nucleare. Le radiazioni sembravano provenire da una sorgente beta, cosa che portò all'ipotesi, mai confermata peraltro piuttosto inverosimile, che gli esploratori stessero trasportando tale sorgente. Ma a che scopo? La spedizione non aveva uno scopo scientifico, sebbene i membri appartenessero tutti all'Università Politecnica dei Monti Urali. In realtà esistono spiegazioni più ragionevoli. Ad esempio la vicinanza con due siti, Mayak e Novaya Zemlya, da cui provenivano alcuni degli esploratori. Entrambi i siti erano stati coinvolti in dispersioni di materiale radioattivo. Dell'incidente della centrale di Mayak parlo anche nel libro mentre Novaya Zemlya era sito di test nucleari. La contaminazione poteva facilmente risalire molto prima della spedizione. L'opposizione sollevata a questa ipotesi è che tali contaminazioni difficilmente avrebbero dato origine a solo emissioni beta, ma sarebbero state accompagnate anche da radiazioni gamma. Tuttavia siamo nel 1959, quindi gli strumenti di misura sono meno sensibili di oggi. Secondo il fisico Igor Pavlov, la particolare contaminazione proveniente dall'incidente di Mayak avrebbe avuto un rapporto tra emissioni beta e gamma non osservabile con gli strumenti dell'epoca. Secondo lui quella della contaminazione pre-escursione rimane l'ipotesi più ragionevole. Anche l'opzione del torio contenuto nei vetri delle torce che gli esploratori avevano con sé potrebbe essere presa in considerazione. Sicuramente ciò che incuriosisce è per quale motivo dopo aver ritrovato 9 persone morte per apparente ipotermia e probabili conseguenze di una malanga si sia andata a misurare la radioattività dei loro vestiti. Ah, se solo Adam Kadmon fosse qui! Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con chi non ha ancora letto il mio libro. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è la dove non ve l'aspettate!